Buongiorno e benvenuti ad un'altra puntata di... Cose a caso? In questo nuovo episodio parleremo dell'importanza delle mani. Con una mano, per esempio, possiamo anche prenderne un'altra. Avere due mani è meglio che averne una sola. Possiamo notare che le mani sono attaccate al nostro corpo, per cui muovendo la mano possiamo direzionare così anche tutto il corpo. Lanciando la nostra mano verso l'infinito, anche il nostro corpo si sposta in determinate posizioni. Una delle prime cose che possiamo notare nelle nostre mani è che hanno il cosiddetto pollice oppone-bile, cosa che ci differenzerebbe dagli altri animali, che non possono fare questo. Ma neanche questo. E nemmeno... Per non parlare poi di un sacco altre cose, tipo la masturbazione, la rapinoma normata, l'omicidio. All'estremità delle mani possiamo notare delle robe bianche, che si chiamano unghie. Sotto queste robe potrebbero ne darsi dello sporco, per cui vanno pulite. È bene tagliarle qualcuno per evitare di tagliarle, perché insomma... Pfff... Le mangia. Le unghie sono un tipico strumento di difesa degli animali, e anche nell'essere umano, meglio stare attenti. In molte culture si è... Quella roba lì, dipingere le unghie come elemento attrattivo, in alcuni casi repulsivo. Si evince che la mano, come strumento manuale, sia molto utile per un po' tutti quanti gli esseri umani. Non parliamo di quanto sia utile per noi italiani, che senza le mani verremmo meno mati. Cioè, faremmo più fatica a comunicare. È arcinoto come l'italiano abbia un grande utilizzo nel gesticolare, e questo lo aiuta a comunicare meglio, in teoria. La mano è anche formata da molti diti, e con molti diti si possono fare dei gesti che sono universalmente riconosciuti, e tutti sanno quello che vuole dire. Concludiamo dicendo che è sicuramente molto bello avere le mani, non perché con le mani sbucci i tuoi capelli, ma perché, altrimenti, come faremo a stare sui social network? Sigla. Grazie a tutti.